Sono 13.22 del 7 gennaio 2024, sono scelso dalla montagna alla strada La Lampara, questo è il vecchio serbatoio, vecchio, anzi è nuovo, sono 40 anni, perciò si è detto vecchio. Adesso facciamo il mini circuito, ecco qui, il circuito ecologico, passiamo qui, ecco qui, questo è il pallone del taglio, questa è la fontanella, qua passa il comune viene a pulire, qua l'acqua non scorre più. Qua l'hanno stoccata, ecco qui, mi dispiace, vabbè che ci fa, qui salgono molte persone, non so se chi ha buttato quella roba, qui ho scelto piano piano, questo sta per calare quanto prima, sta radicato, è vento in passaggio, fammi calare, e torno a casa, batta bene.